C'è stata una importante sinergia tra Roma, Napoli e Caserta che ha ottenuto un importante risultato investigativo, 14 arresti, un maxi sequestro, un altro colpo ai casellisi e ai clan napoletani. Sì, questa è un'operazione estremamente complessa di criminalità economica pura che è stata richiesto uno sforzo importante in tema di investigazione di carattere patrimoniale, societario, finanziario e quindi necessariamente l'apporto della componente specialistica del Servizio Centrale di Criminalità Organizzata insieme ai reparti che operano sul territorio, i nuclei di Napoli e il nucleo di Caserta. Siamo estremamente soddisfatti del risultato perché è un'operazione che dà un segnale forte sul territorio e che ha consentito di prosciugare ancora una volta risorse economiche che sono gestite direttamente da imprese criminali, perché qua siamo in presenza di imprese criminali, cioè imprese che sono nella disponibilità di soggetti direttamente appartenenti alle organizzazioni criminali e che si avvantaggiano delle conoscenze, delle collusioni con ambienti istituzionali locali. L'intreccio tra imprenditoria, politica e criminalità viene di nuovo confermato. Quale può essere la soluzione, anche normativa, al di là della repressione, per spezzare questo filo russo che collega questi tre ambiti? Non credo che ci sia una soluzione normativa perché l'assetto normativo vigente in Italia è assolutamente adeguato. La soluzione è quella di spezzare il consenso che le organizzazioni criminali gestiscono sul territorio, il consenso che gestiscono attraverso i bisogni della gente, perché molto spesso si immagina che la criminalità organizzata sia in grado di dare lavoro, mentre la realtà è che laddove la criminalità organizzata prospera e investe i suoi denari, il territorio si impoverisce. In questa operazione brillante della Guardia di Finanza è emerso l'intreccio tra clan casertani, i casalesi e clan napoletani, i polverino, un elemento ancora più inquietante. Tutto questo avviene in nome dell'interesse economico. Noi abbiamo seguito quelli che in conferenza sono stati definiti dei percorsi imprenditoriali, nel senso che in condizioni normali è impensabile che uno stesso imprenditore possa essere servente contemporaneamente di più clan. Se ciò accade è perché c'è un accordo, un progresso tra i clan in questione ed è proprio quello che è accaduto. La conurbazione Napoli-Caserta è un territorio esteso, estremamente appetito, in virtù naturalmente degli ettari di terreno che si hanno a disposizione. Basti pensare che per esempio nell'odierna operazione sono stati sequestrati ben 400.000 metri quadri di terreno, oltre tutta la parte già edificata. L'impatto sul territorio è stato a dir poco devastante. Sono riusciti a edificare su terreni dove addirittura c'erano molteplici vincoli paesaggistici, archeologici, oltre che idrogeologici. È qualcosa di impensabile. La sistematicità con la quale questi soggetti sono riusciti ad operare, semplicemente utilizzando le connivenze con gli amministratori locali, è qualcosa di a dir poco impressionante. Comandante, proprio di fronte a una devastazione così evidente, non solo agli occhi degli amministratori, ma anche ai semplici cittadini, come è possibile che non ci sia nessuna denuncia, nessuna indignazione, nessun tentativo di contribuire a salvaguardare il territorio? Vede, questa domanda mi dà modo di dire due cose fondamentali. Una attiene proprio ai motivi per i quali esiste una direzione distrettuale, esistono un servizio centrale sulla criminalità organizzata, esistono, che vale naturalmente anche per le altre forze di polizia, carabinieri e polizia di Stato, esiste un gico della Guardia di Finanza, esistono le indagini patrimoniali, esiste un pacchetto antimafia, una normativa che viene definita straordinaria o eccezionale. La stessa costruzione dell'articolo 416 bis all'interno del codice penale è costruita proprio in maniera tale da evidenziare la forza derivante dal vincolo associativo, la forza intimidatrice, lo stato di omertà, di infiltrazione a carattere economico e sociale che un fenomeno di criminalità organizzata può suscitare. E poi naturalmente la possibilità che laddove non si arriva con il denaro, quindi con la corruttela, si arriva con l'intimidazione fisica. Questi sono i due elementi che hanno consentito nel tempo a queste organizzazioni di poter devastare interi Interland, vedasi quello casartano e quello partenopeo. Colonello, lei ha curato direttamente il suo nucleo le indagini per questa importante operazione. L'indizio principale che avete seguito all'inizio di queste indagini qual è stato? L'indizio, diciamo, quello che ha fatto nascere l'indagine è la relazione della commissione di accesso sul comune di Casaluce che ha evidenziato e portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria una serie di irregolarità e anomalie nella gestione appunto del settore edilizio del comune. E da qui sono poi nate le indagini che sono state svolte all'ostilio di tutti gli strumenti a disposizione della polizia giudiziaria, quindi intercessioni telefoniche, attività di indagine ambientale, pedinamenti, controlli, indagini bancari. E qui abbiamo individuato, come dicevo prima in conferenza stampa, diversi aspetti, filoni principali, tra cui appunto la gestione dell'edilizia del comune di Castelvolturno. E abbiamo visto appunto questo sequestro di questo enorme complesso turistico realizzato nei pressi quasi all'interno del lago Padre, a poche centinaia di metri, in un posto dove non potrebbe esserci. E questo a totale spregio della normativa sia ambientale che anche archeologica, perché hanno anche occupato l'antica strada domiziana. Poi abbiamo visto anche una gestione ballerina sempre del settore edilizio del comune di Casaluce, un affidamento di appalti senza gara. Infine abbiamo scandagliato la possibilità da parte di Giuliani Raffaele, che è il soggetto focale della nostra inchiesta, che riusciva a muoversi liberamente in un centro dove scontava la pena della detenzione alternativa al carcere, riuscendo a muoversi liberamente attraverso l'averea fatto assumere addirittura il cugino, attraverso una serie di documentazioni false. Comandante, è stato un lavoro investigativo immane, parliamo di un sequestro di 250 milioni di euro. Sì, parliamo del frutto, del risultato di ben tre anni di indagini. Ovviamente attività svolte in maniera sinergica con altre parti del corpo, avete visto la presenza anche dello SCICO, nostro servizio centrale e del GICO di Napoli e ovviamente l'abbiamo seguita noi perché essendo i vari reati presenti in ambito territoriale casertano, ovviamente abbiamo seguito all'inizio le indagini, dopodiché ci siamo stati supportati dall'USCICO e dal GICO di Napoli.